Ringrazio il seminario per darmi questa opportunità di parlare, questo è un interessantissimo seminario. Vi voglio parlare della possibilità di definire dei cifrari mediante dei sistemi di equazione alle differenze. Questa è un'idea che troviamo già presente nella pratica di molti cifrari, perché molti cifrari sia a flusso che a blocchi utilizzati realmente in applicazioni sono delle regole ricorsive che determinano l'evoluzione nel tempo, che sono i nostri clock, di un vettore che generalmente è chiamato lo stato, il registro del cifrario, con entrati in un campo finito, tipicamente diciamo il campo con due elementi. Questa ricorsione viene definita da una funzione vettoriale di transizione di stato cosiddetta, che fa passare da uno stato all'altro ai vari istanti di tempo, che generalmente risulta essere quella associata ad un sistema di equazioni esplicite alle differenze ordinarie, quindi abbiamo un solo parametro che è il tempo. Diamo subito un paio di esempi che ci guideranno, ci porteranno poi alla formalizzazione effettiva del problema. Un cifrario molto studiato è Tridium, è un cifrario sviluppato in Europa, in Belgio, nell'ambito del progetto Estream. È uno dei tre vincitori di una call che si fece per lo sviluppo di cifrari a flussi efficienti in hardware. Tridium fu pubblicato nel 2003, però come vedrete la sua struttura è molto semplice, ma nonostante questo è un cifrario per cui non è stato possibile ottenere nessun attacco definitivo fino ad oggi. Le equazioni, diciamo, che definiscono l'evoluzione dello stato di Tridium sono queste semplici tre equazioni esplicite, perché vedete che, diciamo, abbiamo a questo membro una singola variabile, sono tre equazioni quadratiche. Io utilizzo questa notazione, diciamo, di tipo funzionale, ma ovviamente queste sono delle successioni. Le soluzioni del sistema sono, di queste tre equazioni quadratiche, di questo sistema sono terne di funzioni x, y, z, sono di fatto delle successioni dai numeri naturali verso il campo con due elementi. Siccome abbiamo delle equazioni alle differenze di tipo esplicite, ovviamente abbiamo un teorema di esistenza unicità semplice, cioè abbiamo una corrispondenza 1 a 1 fra le soluzioni allo stato iniziale del sistema, che sono questi 288 bit, perché nell'equazione vediamo che i termini a questo membro sono 93, 84, 111, quindi lo stato iniziale è formato da 93 più 84, 111, 288 bit. e indichiamo con vt un generico stato al clock t del nostro sistema che definisce trivium. Quindi la funzione di transizione di stato per trivium è la mappa vettoriale che fa passare da questo valore di registro, dal registro a un certo istante t al registro all'istante t più 1. Si tratta di una mappa polinomiale perché le equazioni sono polinomiali, vabbè, ma diciamo, sui campi finiti tutte le funzioni sono polinomiali. La chiave è il vettore iniziale di trivium, costituiscono 80 più 80, 160 bit dello stato iniziale, quindi sui 288 bit, 128 bit sono prefissati, sono dei valori 0,1 prefissati. Accanto al sistema delle differenze che definisce l'evoluzione, diciamo, dello stato in trivium, abbiamo un polinomio, il cosiddetto polinomio di keystream, nel caso di trivium è un polinomio lineare, perché il sistema è quadratico, quindi va bene anche un polinomio lineare, e il keystream definito da questo cifrario è il valore che assume questo polinomio sullo stato vt, è il valore che assume il polinomio sul registro all'istante al clock t. Il keystream per trivium vine output dopo il tempo T grande, che è 4 volte 288, quindi l'output, il keystream vine output dopo 1152 clock, e questo, diciamo, è una scelta tipica per questi cifrari, perché serve a proteggere la chiave della cifratura, che è lo stato iniziale del sistema. Una variante di trivium studiato in criptanalisi è bivium, dove si è ridotto il sistema da tre equazioni a due equazioni, e il polinomio di keystream si riferisce soltanto alle variabili di queste due equazioni. Qui abbiamo 177 bit come registro, e l'output è dopo il valore 4 volte 177, 708 clock, e questa è una rappresentazione, diciamo, grafica di trivium e del suo sottosistema bivium, solo che qui troviamo a, b e c al posto di x, y e z. Notiamo che le funzioni di transizione di stato di bivium e trivium sono funzioni invertibili, quindi è possibile calcolare lo stato iniziale, dove c'è la chiave, a partire da un qualsiasi stato. Questa è una potenziale vulnerabilità, diciamo, di un cifrare a flusso di questo genere, cioè avere la funzione di transizione di stato invertibile. D'altra parte, però, diciamo, l'invertibilità della funzione di transizione di stato, insieme alla riducibilità del sistema, può costituire una risorsa per definire un cifrario simmetrico, un cifrario a blocchi, anziché un cifrario a flusso. Un sistema invertibile contenente un sottosistema, quindi definisce un cifrario simmetrico a blocchi. Lo stato iniziale del sottosistema è la chiave di cifratura. Lo stato iniziale del sistema è la chiave di cifratura più il plain text. Se è fissato un certo clock T finale, lo stato finale, diciamo, del sistema al clock T è costituito, vabbè, dall'evoluzione della chiave e soprattutto dal cifr text, che è costituito appunto dal vettore VT. Quindi per decifrare, utilizzando il sottosistema di chiave, uno a partire dalla chiave U0 può calcolare UT. Avendo a disposizione UT e VT, dove VT è il cypher text, utilizzando il sistema inverso, si può tornare allo stato iniziale U0, V0, e quindi V0 sarà il plain text, si può decifrare. Quest'idea, per esempio, si trova nel cifrario Keylock, è un cifrario abbastanza importante che è stato utilizzato nei transponder a radiofrequenza per le auto, nell'industria automobilistica, per l'apertura di porte, eccetera. Un vecchio brevetto del 1.195 venduto per 10 milioni di dollari, che però è stato crittanalizzato in modo critico nel 2008. Come sistema di equazione e differenze, Keylock è il risultato, diciamo, è definito da queste due equazioni, di cui una cubica, e la prima lineare, quindi un LFSR, Linea Feedback Shift Regist, un'unica equazione lineare, quella che determina l'evoluzione di chiave. Questa è un po' la sua debolezza, perché quest'unica equazione lineare ha un periodo piccolo. Quindi sotto il sistema di chiave, costituita da questa singola equazione, quindi già abbiamo la chiave, che sono 64 bit, 32 bit sono il plain text e il ciphertext. Il clock finale sono 8 volte 64 più 16, 528 clock. Quindi la chiave è lo stato iniziale del sottosistema di chiave, quindi questi 64 bit K, e il plain text e il ciphertext si riferiscono alla variabile X. E la vulnerabilità, l'ho detto, è il fatto che il periodo è breve, 64, per la funzione di transizione di state, e questo permette un attacco di tipo mid in the middle. E questo è uno schema, in cui nella parte inferiore vediamo il sottosistema di chiave di Keylock. Veniamo alla formalizzazione. Se abbiamo un sistema di equazione di differenze, di tipo algebrico, polinomiale, ma abbiamo detto che sui campi finiti tutte le funzioni sono polinomiali, la formalizzazione corretta è quella che risale, che corrisponde alla nozione di algebra alle differenze. Questa è un'idea che era immersa negli anni 30, quando si cominciarono a studiare i sistemi di equazioni differenziali, in analogia a quello che si era fatto per i sistemi di equazioni polinomiali, sistemi di equazioni polinomiali studiati da Hilbert nell'algebra commutativa. Queste idee, diciamo, per opera del matematico Ritt, poi Colkin, eccetera, era passata nello studio dei sistemi di equazioni differenziali da un punto di vista formale, cosiddetta algebra differenziale. In particolare, diciamo, analogamente al caso differenziale, lo stesso Ritt suggerì che si potesse studiare in modo formale i sistemi di equazioni alle differenze. Quindi, diciamo, la formalizzazione è corretta, se abbiamo un sistema di equazioni alle differenze, abbiamo visto che diversi cifrali possono essere descritti in questa maniera, e utilizzare il linguaggio delle equazioni alle differenze. Quindi abbiamo un sistema finito di variabili per ciascun clock T, formiamo un insieme di variabili che è l'unione di questi insiemi finiti per ciascun clock, e formiamo l'anello dei polinomi su questo sistema infinito di variabili. Su questo anello di polinomi consideriamo un endomorfismo di algebra che è quello che fa passare una variabile dal clock corrente al clock successivo e chiamiamo sigma l'operatore di shift. L'algebra R dotato dell'endomorfismo sigma si chiama, nell'algebra delle differenze, nella teoria formale dell'equazione delle differenze, l'algebra dei polinomi alle differenze ordinarie, perché abbiamo un solo parametro, nelle variabili X1 e Xn. È utile dati R1 e Rn che saranno gli ordini delle nostre equazioni, del nostro sistema di equazioni, definire il sistema delle variabili iniziali per, diciamo, questo sistema, quindi questo sottosistema di variabili sotto algebra, sotto anello di polinomi, R-segnato. Dunque, dati F1, FR, polinomi, su questo sotto anello R-segnato, un sistema di equazione esplicita di differenze ordinarie, è un sistema, dal punto di vista dell'equazione algebrica, è un sistema infinito di equazioni algebricche del tipo questa equazione, dove l'operatore sigma è applicato ai polinomi F1, FR, che vengono quindi shiftati nel tempo. tale sistema si denota brevemente in questa forma, diciamo, eliminiamo gli shift, è una soluzione del sistema e quindi una n, una soluzione del sistema sul campo dei coefficienti è una n, un o n di funzioni, di fatto successioni, che soddisfano l'equazione, diciamo, del nostro sistema algebrico. Per ogni sistema è importante definire il corrispondente endomorfismo di algebra, perché è quello che fa passare le variabili dal clock 0 al clock successivo, cioè la variabile XI0 viene mandata nella variabile XI1 e così via, fino alla variabile XIR con I meno 1 che viene mandata nel polinomio F con I. A questo endomorfismo di algebra, a questo punto di vista, diciamo, per questa mappa come endomorfismo di algebra, corrisponde la funzione polinomiale corrispondente, che è sostanzialmente quella che fa passare da un registro al clock T al registro al clock T più 1. E VT per la soluzione A1N è quello che noi chiamiamo lo stato o il registro della soluzione. Chiamiamo T segnato l'endomorfismo di transizione di stato e T la funzione di transizione di stato associata al sistema di equazione di differenze 1, chiamiamo sempre 1 questo sistema di equazione di differenze esplicite, ordinarie. Se denotiamo con VK l'insieme di tutte le soluzioni del sistema, allora chiaramente abbiamo un'abigezione fra l'insieme delle soluzioni e gli stati iniziali, cioè abbiamo un teorema di esistenza e onicità che ci dice che, diciamo, appena segnata la condizione iniziale per questo sistema di equazioni alle differenze, resta definito in modo univoco la soluzione del sistema. Ed è interessante osservare che queste funzioni che mappano le soluzioni sui loro stati iniziali sono funzioni polinomiali, una funzione polinomiale insieme alla sua inversa. Consideriamo adesso l'endomorfismo e la corrispondente funzione di transizione di stato. Diremo che il sistema è invertibile se l'endomorfismo associato risulta un automorfismo, quindi è bigettivo. In tal caso anche la funzione di transizione di stato risulterà bigettiva. Come, diciamo, sapere che un endomorfismo è invertibile? Come calcolare l'inverso? Per noi il problema è di determinare l'inverso del sistema di equazioni, un sistema inverso al sistema di equazioni alle differenze. Ci viene in aiuto il calcolo simbolico, in particolare a base di Grubner, che definiscono un metodo, algoritmo per stabilire se un generico endomorfismo da un anello di polinomi in sé stesso risulta essere un automorfismo e ci dice anche, mediante il calcolo di una base di Grubner, come calcolare l'inverso. Quindi, diciamo, se abbiamo un anello di polinomi P sulle variabili X1 e XR, ci viene comodo prendere una copia, abbiamo l'endomorfismo FI che manda le variabili X con I nel polinomio G con I, quindi un generico endomorfismo, definiamo un ideale corrispondente come XI' questa copia della variabile meno G con I, formiamo l'anello dei polinomi in entrambi i set di variabili X1, XR, X1' XR' e mediante un ordinamento monomiale che, diciamo, nel quale i monomi sulle variabili X sono più grandi dei monomi sulle variabili X', mediante il calcolo di una base di Grubner, noi sappiamo se l'endomorfismo è invertibile oppure no e sappiamo calcolarne l'inverso. Se la base di Grubner dell'ideale J è di questa forma, X1-G1' XR-GR' vorrà dire che l'endomorfismo è invertibile e l'inverso sarà definito come X1, XI in G' di, dove però adesso abbiamo, diciamo, identificato le variabili prime con le variabili ordinarie. Se applichiamo questo teorema ai sistemi di equazione, all'endomorfismo di transizione di stato di un sistema, in particolare nel caso di oggettivo, quindi abbiamo l'automorfismo di transizione di stato corrispondendo a un sistema invertibile, quando facciamo la base di Grubner, questa base di Grubner che ci dà l'inversa, l'inversa di una forma particolare. L'inversa, diciamo, è di questa forma e quindi ci permette di definire il sistema di equazione inverso rispetto al nostro sistema invertibile, a meno, diciamo, di riordinare le variabili. Cioè, diciamo, noi consideriamo un isomorfismo che fa sparire l'apice primo e riordiniamo le variabili dalla prima verso l'altra. È necessario fare questa operazione per definire propriamente, questo viene da come è fatta la base di Grubner per l'endomorfismo di transizione di stato, ma insomma, a meno di riordinare le coordinate nel vettore di stato, abbiamo la definizione del sistema inverso di un sistema invertibile, che è di questa forma. Quindi gli endomorfisi e quindi le funzioni di transizione di stato di un sistema invertibile e del suo sistema inverso sono l'uno l'inverso dell'altro, a meno di questa permutazione di variabili. Questo permette di calcolare lo stato iniziale da uno stato qualsiasi, cioè ci permette, nel caso di invertibilità, di percorrere il tempo al contrario, semplicemente sostituendo il sistema con il suo sistema inverso. Ad esempio, se calcolate con questo metodo simbolico l'inverso del sistema dell'equazione di stato del cifrario Trilium, trovate quest'altro sistema di equazioni alle differenze, ancora quadratico, e di questa forma. Quindi, mediante questo sistema inverso di Trilium, si può percorrere il tempo, al contrario, per l'evoluzione dello stato interno di questo cifrario. per concludere, diciamo, questa introduzione formale, almeno questa parte generale sulle equazioni alle differenze, è utile introdurre un altro paio di nozioni. Un sistema, si dice, riducibile se ammetto un sottosistema dove F1 e Fm sono definiti soltanto sulle variabili iniziali relative a F1 e Fm. Quindi abbiamo un sottosistema indipendente. In questo caso, ovviamente, l'endomorfismo e la funzione di transizione di stato sono semplicemente le restrizioni delle mappe del sistema completo. E un'altra nozione è quella, diciamo, quando si ha che la funzione di transizione di stato è invertibile ed ammette periodo finito. Se questa mappa ha periodo finito, allora diremo che il sistema è periodico perché le soluzioni saranno periodiche. Naturalmente, se abbiamo un campo finito, questa mappa invertibile sta nel gruppo simmetrico su un insieme finito, insomma, deve essere per forza periodica. I sistemi invertibili su campi finiti sono periodici. È un problema aperto, al meglio delle mie conoscenze, è quello di calcolare e massimizzare il periodo, diciamo, di una funzione di transizione di stato nel caso generico in cui si ha una mappa polinomiale di grado arbitrario. Perché nel caso lineare, quindi stiamo parlando di sistemi di LFSRR, cioè di sistemi di equazioni alle differenze lineari, quello si sa fare, diciamo, si sa calcolare, diciamo, un LFSR di periodo massimo, eccetera, eccetera. Però nel caso non lineare, cosa accade? Come possiamo massimizzare il periodo? Perché abbiamo visto che è una debolezza per il cifrare il fatto di avere la mappa di transizione di stato di periodo finito piccolo. Quindi nel seguito assumiamo che il nostro campo dei coefficienti per il nostro sistema di equazione di differenze è un campo finito. Un cifrare a flusso alle differenze per definizione, quindi un sistema esplicito alle differenze insieme ad un polinomio. Se a1 a n è una soluzione e il suo stato iniziale è quello che possiamo chiamare la chiave, diciamo, di questa soluzione. Inoltre, se indichiamo con Vt lo stato, il registro, diciamo, di questa soluzione, la funzione B che è ottenuta, diciamo, valutando il polinomio F sullo stato Vt è quello che noi chiamiamo il key stream, diciamo, della soluzione. Tanto lo stato iniziale resta determinata questa evoluzione per il cifrare e noi otteniamo il key stream prendendo, diciamo, una certa funzione dei bit dello stato interno. Questo si può fare in due modi, diciamo, se il sistema ha equazioni non lineari, possiamo prendere come polinomio di key stream un polinomio anche lineare nel caso di Trimium. Se invece il nostro sistema, questo è il caso, diciamo, dei sistemi di LFSR con combinatore, insomma, se invece abbiamo che il sistema è dato ad equazione lineare, prenderemo questo polinomio che determina il key stream non lineare, ovviamente. Notiamo che un cifrare, dunque un cifrare, quindi un sistema di equazione esplicita di differenza più un polinomio, ma naturalmente possiamo vedere il tutto con uno speciale sistema esplicito dove abbiamo una nuova variabile che è quella corrispondente al key stream. Se abbiamo un cifrare a flusso, va bene, definito da un sistema di equazioni di differenze da un polinomio, B è il key stream di una certa soluzione, definiamo quello che è un attacco algebrico a questo cifrare a flusso alle differenze in una condizione di non plaintext attack, cioè in una condizione di non plaintext attack noi possiamo assumere di conoscere il key stream, no, per differenza fra il plaintext e il cifrtext, quindi assumiamo di conoscere il key stream. Quindi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo sostanzialmente conoscere quali sono le soluzioni, meglio ancora, quali sono le chiari compatibili con quel dato key stream. Quindi andiamo a imporre delle equazioni, quindi diciamo formalmente definiamo l'ideale J definito da questi polinomi che sono le equazioni soddisfatte diciamo dalle soluzioni quando queste soluzioni danno luogo esattamente a un key stream dato. Quindi il nostro problema sarà quello di calcolare diciamo le soluzioni del nostro sistema di equazioni a differenze che sono compatibili con questa condizione, cioè che producono un dato key stream a partire da un certo clock t perché abbiamo visto che nel ciphertext l'output avviene per il key stream avviene da un certo clock t in poi. In altri termini diciamo se consideriamo l'ideale alle differenze associate al sistema che è questo vogliamo andare a calcolare le soluzioni sul campo dei coefficienti l'insieme delle soluzioni sul campo dei coefficienti diciamo della somma dell'ideale che corrisponde al sistema di equazioni di differenze e dell'ideale che corrisponde alla condizione che stiamo imponendo che è il key stream è dato. Quindi questo noi diciamo siamo interessati più che alla varietà delle soluzioni del sistema che sono compatibili con il key stream dato agli stati iniziali di queste soluzioni cioè alle chiavi che sono compatibili con il key stream che tipicamente ce ne sarà solo una avremo una sola chiave compatibile con un key stream dato un numero sufficiente di bit del key stream noto un numero sufficiente di valori del key stream quindi potrebbe essere conveniente anziché studiare le equazioni diciamo per le soluzioni studiare le equazioni per le chiavi per gli stati iniziali questa varietà cioè l'insieme delle soluzioni insieme delle chiavi che sono compatibili con il key stream naturalmente l'immagine dell'insieme delle soluzioni che sono compatibili con il key stream sotto questa abigezione che mappava sugli stati iniziali ma noi vogliamo le equazioni come possiamo ottenere le equazioni? se assumiamo diciamo che abbiamo un ordinamento monomiale in cui le variabili che stavano al termine sinistro delle equazioni sono più grandi diciamo di tutti gli altri monomi che compaiono nel termine destro e abbiamo che il nostro ordinamento monomiale è compatibile con l'operatore di shift questo diciamo avviene abbastanza facilmente otteniamo immediatamente che il sistema di equazione che definisce che definisce il nostro sistema di equazione di differenze è una base di Grubber cosiddetta alle differenze cioè a meno dell'operatore di shift quindi diciamo se noi prendiamo la forma normale del polinomio sigma t alla f modulo i cioè rispetto calcoliamo diciamo la forma normale rispetto a questa base di Grubber delle differenze che sono le equazioni del nostro sistema cosa stiamo facendo praticamente stiamo eliminando tutte le variabili che non sono le variabili iniziali quindi stiamo inducendo queste equazioni sugli stati iniziali che sono le nostre chiare resta definito questo ideale j primo mediante queste forme normali queste forme normali sono definite soltanto sulle variabili iniziali quindi abbiamo che queste variabili insieme diciamo delle chiavi che sono compatibili con il k-stream sono esattamente diciamo le soluzioni di questo sistema le soluzioni di quest'ideale di questo sistema dove abbiamo sostituito sigma t alla f con la sua forma normale modulo i naturalmente in un vero attacco algebrico noi non conosciamo il k-stream a partire da t in poi per un numero infinito di variabili lo conosciamo il k-stream per un numero finito di valori però notate che praticamente adesso studiando le chiavi ci siamo ridotti ad un anello di polinomi che è sul numero finito di indeterminate perché le variabili iniziali sono finite quindi siamo su un anello di polinomi finitamente generato netteriano e questo che cosa ci dice ci dice che non è necessario conoscere il k-stream per determinare correttamente le chiavi non è necessario conoscere il k-stream per un numero infinito di valori ma è sufficiente conoscere per un numero finito di valori che è quello che facciamo in pratica quindi con un numero finito sufficientemente alto di valori del k-stream non perdiamo nessuna equazione soddisfatta dalle chiavi adesso dobbiamo calcolare l'insieme delle chiavi quindi dobbiamo sostanzialmente risolvere un sistema di equazioni polinomiali algebbiche possiamo usare tipicamente basi di grabber oppure SAT solver cioè solutori per sistemi di equazioni booleane nel caso in cui il campo ha due elementi per i cifrali diciamo in uso i cifrali reali come trivium come bluetooth eccetera generalmente abbiamo una sola chiave che è compatibile con il k-stream assegnato questo è un grosso vantaggio dal punto di vista dell'attacco perché abbiamo questa proposizione che è una conseguenza del Nunch-Telen-Satz sui campi finiti che ci dice sostanzialmente che questi ideali diciamo che quando noi vogliamo trovare le soluzioni sul campo dei coefficienti di un certo sistema di equazioni polinomiali è sufficiente che aggiungiamo al sistema di equazioni le equazioni cosiddette di campo cioè le equazioni che definiscono praticamente gli elementi del campo finito dove siamo dopodiché praticamente dal Nunch-Telen-Satz abbiamo che se abbiamo una sola soluzione la base di Grubber che noi calcoliamo è di questo tipo lineare cioè ci dà immediatamente la soluzione del sistema e questa base di Grubber è universale cioè è la stessa base di Grubber per qualsiasi ordinamento monomiale che possiamo scegliere sull'anello dei polinomi questo è un grosso vantaggio perché in genere per calcolare le soluzioni in un sistema di equazioni algebriche dobbiamo metterci che so con ordinamenti monomiali di tipo lessicografico eccetera che sono altamente inefficienti mentre qui possiamo scegliere arbitrariamente il nostro ordinamento monomiale tipicamente sceglieremo un ordinamento tipo DEC-REX dominato dal grado questo migliora enormemente l'efficienza della base di Grubber un'altra possibile ottimizzazione naturalmente è quella di arrestare l'algoritmo di Bukberg quando si ottiene che tutte le variabili valgono una costante perché tutti i conti che saranno successivi a questa determinazione a questo punto saranno totalmente inumili questo diciamo migliora un po' l'efficienza del nostro calcolo di base di Grubber però un problema grosso che si ha è il fatto che questa forma normale che noi andiamo a calcolare del polinomio si battia la F se il clock T dal quale partiamo è molto grande e questo accade per i cifrari reali perché per nascondere la chiave questo clock per esempio nel caso di Tridium sono mille cicli accade che praticamente questa forma normale in cui siamo andati a eliminare tutte le variabili tranne quelle iniziali ammette grado alto però se il sistema è invertibile noi questo lo possiamo studiare facendo quel calco di base di Grubber che ho illustrato quindi andiamo a studiare l'endomorfisi in transizione di stato andiamo a vedere se è invertibile oppure no e ce ne calcoliamo l'inversa praticamente attaccare lo stato iniziale è equivalente a attaccare qualsiasi stato quindi in particolare attaccare lo stato in cui comincia a venire fuori chi stream questo è un enorme vantaggio perché anziché diciamo calcolare queste forme normali per un valore di clock superiore al clock t che è molto grande noi possiamo ridurci a calcolare forme normali per un valore di clock inferiore a differenza b-t cioè che esattamente il numero di valori nel key stream che stiamo imponendo quindi se stiamo dando 180 190 bit di key stream dobbiamo calcolare le forme normali per questi diciamo valori di clock e il loro grado non crescerà molto se invece dovessimo anziché fare 180 dovessimo fare 1000 più 180 il grado sarebbe fuori controllo e in effetti noi abbiamo usato questa strategia per calcolare b-b però in alcuni casi accade che le forme normali continuano ad avere gradi troppo alti e quindi le basi di clock sono intrattabili in quel caso l'unica diciamo risorsa che hai è cercare anziché di lavorare sulle equazioni soddisfatte dalle chiavi del sistema lavorare direttamente sulle soluzioni del sistema cioè diciamo con le equazioni sigma t alla f uguale bt uguale il valore del keystream che queste hanno tutti lo stesso grado quindi non è il problema del grado però è il problema del numero di variabili perché così facendo senza l'eliminazione alle variabili dello stato iniziale tu hai un mare di variabili sulle quali calcolare l'automobassi di Greb ovviamente è possibile che sono diciamo sensibili al numero di variabili anche diciamo calcolando sulle sole variabili iniziali può darsi che la tua base di Greb non sia capace di fornirti in un tempo ragionevole la soluzione diciamo del sistema a questo punto la strategia tipica è quella di aggiungere dei polinomi lineari per abbassare la complessità di questo calcolo di aggiungere dei polinomi lineari all'ideale di cui tu vuoi calcolare le soluzioni questi polinomi lineari possono essere o già degli elementi di j che sono noti oppure calcolati per esempio nel caso di un attacco a bivium trivium noi abbiamo che il polinomio di kistrim è un polinomio lineare quindi diciamo questo induce delle equazioni lineare che noi possiamo utilmente utilizzare quando cerchiamo di risolvere oppure diciamo tu aggiungi altre equazioni lineari come assegnazioni dici vabbè io considero un sottoinsieme di variabili dell'insieme completo di variabili su un xr e dico attribuisco dei valori arbitrari a queste variabili quindi diciamo riduco il numero di variabili con il quale devo calcolare sul quale devo calcolare la base di grebola naturalmente diciamo nel caso in cui tu hai una singola soluzione diciamo queste assegnazioni saranno tutte errate eccetto che una però le basi di grebola quando il sistema è incompatibile quando diciamo la soluzione non ammette soluzioni si comportano abbastanza bene perché diciamo la base di grebola si arresta non appena l'elemento 1 non appena tu trovi una costante riesci a ottenere una costante manipolando queste equazioni il sistema è inconsistente quindi otterrai un'equazione del tipo 0 uguale una costante diversa da 0 mentre invece se utilizzi un SAT solver la risposta UNSAT cioè che non c'è soddisfacibilità per il sistema di equazione bullenane sostanzialmente lo ottieni quando hai analizzato l'intero spazio quindi risulta diciamo abbastanza impegnativo arrivare alla risposta di non soddisfacibilità mentre dal punto di vista dell'equazione del calcolo simbolico questo si ottiene abbastanza bene e abbiamo visto anche in pratica che le Valsity Grubner nel caso di assegnazioni errate che sono tutte tranne una perché c'è una sola assegnazione corretta e tutte le altre sono errate di fatto nei nostri esperimenti le Valsity Grubner risultano essere più efficaci questa idea di risolvere un sistema algebrico mediante l'assegnazione esaustiva di un sottinsieme di variabili si chiama una guess and determine o gli autori francesi la chiamano hybrid strategy e naturalmente la complessità di una strategia di questo genere è qu'la s per tau dove s è il numero di variabili che tu hai scelto di assegnare q è il numero di elementi del tuo campo finito tipicamente 2 e tau è il tempo di calcolo medio per una singola base di Grubner cioè devi calcolare una sola base di Grubner non riesci a calcolarla diciamo baratti quest'unica base di Grubner con tante base di Grubner sperando che questo numero s di variabili che tu devi assegnare in maniera esaustiva non sia troppo grande naturalmente assumendo che la soluzione la trovi nella metà dello spazio scendi a questa complessità però diciamo la complessità è fortemente influenzata dal valore s di variabili che tu devi assegnare naturalmente dal tempo medio di calcolo però diciamo se assegni un numero abbastanza grande di variabili questo tempo di calcolo medio per le basi di Grubner non sarà molto alto quindi diciamo un'ottimizzazione fondamentale qua è la scelta delle variabili che devi assegnare perché scegliendo delle variabili piuttosto che altre può cambiare completamente la performance dell'algoritmo è il fatto anche che tu puoi paralizzare perché stai calcolando tante basi di Grubner quindi queste basi di Grubner le puoi mandare in paralleli intanto che non trovi la soluzione per l'attacco algebrico che abbiamo condotto a Bivium abbiamo assegnato in maniera esaustiva 38 variabili siccome c'erano le equazioni del keystream di fatto ottenevamo l'assegnazione di 60 variabili sul totale di 177 variabili di Stato perché diciamo il vettore di Stato era 177 bit nel caso di Bivium 288 nel caso di Trigo le restante 117 variabili sono state risolte mediante basi di Grubner e SatSolver abbiamo voluto realmente diciamo confrontare l'efficienza di basi di Grubner rispetto ai SatSolver come basi di Grubner abbiamo utilizzato due implementazioni che si trovano nel sistema di calcolo simbolico singolo che sono di pubblico dominio cioè singolare di pubblico dominio quindi potete utilizzare basi di Grubner senza alcuna licenza e come SatSolver lo stesso abbiamo utilizzato due SatSolver molto utilizzati in criptografia che sono pure questi diciamo dati senza licenze sono Minisat e Crypto Minisat e il tempo totale di calco il running time qui è 2 alla 34 secondi su un singolo processore ma naturalmente l'attacco può essere parallelizzato quindi diciamo significa che Bivion si può attaccare realmente questo è uno schema in cui noi diciamo abbiamo provato diverso numero diverso di keystream abbiamo assegnato utilizzato per l'equazione un numero diverso di bit nel keystream 180 ci garantiscono una sola chiave abbiamo provato 180 185 190 195 per vedere qual era la scelta più efficace e niente insomma intorno a 190 elementi nel keystream si ottiene diciamo l'efficienza maggiore che per il basso di grebre risulta 120 millisecondi se confrontiamo questo per esempio le assegnazioni corrette sono tutte tranne una diciamo vediamo che invece per i SAT solver qua otteniamo nella migliore delle ipotesi 20 secondi contro 120 millisecondi delle basi di durabilità e per l'assegnazione corretta le cose migliorano leggermente però l'assegnazione corretta non è rilevante al fine della complessità totale adesso per concludere diciamo volevo dare la definizione formale di cifrario simmetrico diciamo di cifrare a blocchi definito un sistema d'equazione differenze vi ricordo che un sistema d'equazione differenze si dice riducibile se ammette un sottosistema indipendente è un cifrare a blocchi le differenze e per definizione un sistema invertibile riducibile insieme ad un intero prefissato t se chiamiamo k la somma diciamo degli ordini fino a m dell la somma degli ordini da m più 1 a r se ut vt è lo stato diciamo di una soluzione del cifrare allora u0 è la chiave v0 è il plaintext e vt è il ciphertext di quell'evoluzione di quella soluzione inoltre chiamiamo 4 il sottosistema di chiave la funzione di cifratura è naturalmente v0 questa parte diciamo del registro al clock 0 fino al clock t e utilizzando il sistema di inverso il sottosistema di chiave se v0 è una chiave utilizzando il sottosistema di chiave possiamo calcolare ut senza conoscere il plaintext v0 quindi se abbiamo ut poi abbiamo il ciphertext vt conosciamo lo stato finale del sistema utilizzando il sistema inverso l'ho già detto possiamo calcolare lo stato iniziale quindi il plaintext quindi se hai un sistema di equazione di differenza lo puoi usare sia per un cifrario a flusso sia per un cifrario a blocchi la funzione di cifratura è vtv0 nel caso in cui tu hai un cifrario invertibile e riducibile scusa hai un sistema di equazione di differenza invertibile e riducibile ottieni un cifrario a blocchi molto semplice dalle figli cos'è un attacco un attacco un cifrario a blocchi le differenze è sostanzialmente imporre una coppia anche qui non plaintext una coppia plaintext ciphertext cioè stai dicendo che stai imponendo diciamo stai definendo l'ideale J che è la condizione che hai un certo plaintext e la condizione che hai un certo ciphertext quindi stai imponendo questa equazione e quindi tu vai a calcolare le soluzioni che sono compatibili con questa condizione adesso noi abbiamo fatto un esempio di attacco al cifrario keylock sfruttando quest'idea di poter fare un attacco meet the beadle perché il periodo era basso 64 e per ottenere una sola soluzione abbiamo usato più di una coppia plaintext ciphertext abbiamo usato due coppie due coppie plaintext ciphertext che garantisco che esista una sola chiave compatibile con quella coppia plaintext ciphertext l'ho detto questo è keylock e il problema è che keylock ha questo sottosistema di chiave che è troppo elementare per concludere i sistemi di equazione esplici delle differenze su campi finiti modellano molti cifrari a flussi e a blocchi che sono di reali interessi applicativi per esempio il cifrario 0 di cui mi sto occupando adesso di bluetooth è a partire anch'esso a questa chiave questa modellizzazione permette di studiare le proprietà di questi cifrari in maniera rigorosa quindi la loro invertibilità la loro periodicità eccetera e anche di definire cosa importante gli attacchi algebrici che sono essenziali per stabilire se questo cifrario è utile oppure no quindi a stimare la loro sicurezza la nozione cifrario a differenze permette quindi di sviluppare nuovi cifrari assegnando in maniera molto semplice un sistema di equazioni alle differenze un sistema di equazioni esplici alle differenze ordinarie e studiando nella criptanalisi quanto è difficile fare un attacco diretto o altri tipi di attacco su questi cifrari se volete diciamo tutti i dettagli di questo che vi ho illustrato potete guardare questo lavoro che è attualmente su Archive e per concludere potrei anche diciamo suggerire alcune direzioni di ricerca per esempio questo problema di calcolare e massimizzare il periodo di una mappa polinomiale nel caso non lineare questo è necessario perché diciamo se tu vuoi un sottosistema di chiave sicuro devi mettere un sottosistema di chiave che abbia un periodo sufficientemente grande possiamo pensare di estendere le funzioni di transizione di stato a delle mappe più generali in modo da includere in questo modello teorico l'evoluzione mediante una funzione di transizione avere un modello teorico capace di includere più cifrari e un problema diciamo che abbiamo incontrato è quello di conservare la struttura di ideale le differenze quando si impongono queste condizioni di tipo non Plantex cioè queste condizioni che corrispondono per esempio nel cifrare a flusso ad imporre che una variabile abbia una certa soluzione corrisponde a una certa successione dei suoi valori perché diciamo se riusciamo a mantenere la struttura di ideale le differenze si noti che esistono le basi di groebre delle differenze oppure gli insiemi caratteristici che sono dei solver più efficienti delle basi di groebre perché si sfrutta diciamo nella risoluzione delle delle equazioni la struttura di equazioni di differenze cioè il fatto che queste equazioni sono invarianti rispetto all'azione per shift diciamo dell'operatore di shift e questa è un'informazione rilevante che può essere utilizzata quando si calcola per esempio una base di groebre al fine di risolvere il sistema e con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione